ciao ratti lover benvenuti in questo nuovo video in compagnia con citroen c3 allestimento shine motore 1.282 cavalli benzina adatto ai neopatentati andiamo a scoprirla insieme la carrozzeria rosso rubino con tetto sospeso nero è in ottime condizioni l'auto è aziendale ha avuto un solo proprietario precedente che la tenuta molto molto bene come tutte le auto che entrano nel nostro showroom ha superato i 100 punti di controllo ed è in perfette condizioni sia nella carrozzeria che nel motore i cerchi sono da 16 pollici con questo disegno molto carino che ricorda quasi un fiore lo stato dello pneumatico è ottimale e può essere utilizzato ancora per molti chilometri parcheggiare in città sarà facilissimo grazie sensori posteriori di parcheggio ma andiamo insieme a vedere il bagagliaio bagagliaio da 300 litri che possono diventare 922 abbattendo i sedili posteriori in caso di emergenza alzando il doppio fondo troviamo la ruota di scorta parliamo di consumi fa 11 chilometri con un litro in urbano e 15 in extraurbano i sedili sono in tessuto con cuciture verde acido e sono dotati di attacchi isofix comodi da raggiungere l'auto è in perfette condizioni anche internamente e personalmente mi piacciono tantissimo le maniglie come una valigia come vi dicevo è pensata per la città e infatti i comandi al volante sono comodissimi possiamo gestire il comando vocale l'audio e le chiamate in entrata e uscita soli 27 168 chilometri guardiamo insieme l'impianto infotainment di questa citroen c3 abbiamo la radio il clima la connessione allo smartphone tramite bluetooth apple carplay o android auto ma specialmente un importante sistema di assistenza alla guida ovvero quello del rilevamento stanchezza guidatore comodissimo per viaggiare presa da 12 volt e usb per ricaricare il tuo smartphone il cambio è manuale andiamo ad inserire la retromarcia e sullo schermo compaiono i sensori di parcheggio posteriori di cui abbiamo parlato prima citroen c3 shine è adatta chi guida in città ma specialmente ai neopatentati va sul sito ratti auto.com e riservala con soli 100 euro senza impegno oppure informati per la consegna a domicilio con sanificazione ricordati di prenotare il test drive e di attivare la campanella sul nostro canale youtube per non perderti neanche un nostro video alla prossima